Le rappresentanze dei legali dell'ex tribunale di Sala Consilina, membri del Comitato Nazionale per la Giustizia di Prossimità, chiedono all'amministrazione comunale di Sala Consilina e alle amministrazioni tutte del circondario di sospendere quanto approvato nella delibera di giunta comunale 203 in data 11 settembre che prevede il trasferimento nell'edificio dell'ex tribunale di Sala Consilina anche dell'ufficio dell'impiego. Una richiesta che ritorna puntuale da parte dei legali valdianesi rappresentati nel comitato tra gli altri dall'avvocato Elisabetta Giordano, socio fondatore del comitato stesso e da sempre in prima fila nella lotta per la riapertura del tribunale del Vallo di Diano. Il comitato è preseduto dall'avvocato Giuseppe Agnusdei, il quale in occasione della visita del premier Conte in provincia di Foggia ha sottoposto le istanze del comitato al premier insistendo affinché possa consentire l'incontro con il ministro della giustizia al più presto possibile. In sostanza, spiega l'avvocato Giordano, il comitato di coordinamento nazionale per la giustizia di prossimità in unione con le rappresentanze del comitato ha come intendimento quello di ottenere la riapertura dei tribunali che sono stati soppressi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo numero 155 del 2012 e ciò in linea con quanto previsto dal contratto di governo stipulato tra il Movimento 5 Stelle e la Lega nel quale si parla di rivisitazione della geografia giudiziaria nell'ottica del recupero della giustizia di prossimità. Il decreto continuo all'avvocato di sala consiglina è stato fortemente penalizzante per i territori su cui insistono gli uffici giudiziari soppressi e la riforma della geografia giudiziaria è stata fortemente penalizzante soprattutto per sala consiglina e per il territorio, emblema di ingiustizia, di particolarismi e interessi politici che hanno portato alla desertificazione di tutta un'importante zona del Salernitano favorita dalla posizione geografica aperta ad ogni tipo di sviluppo ed in particolare di sala consiglina. L'occupazione della sede del nostro presidio giudiziario, aggiunge Elisabetta Giordano, potrebbe gravemente pregiudicare il ripristino del tribunale con grave documento per sala consiglina e per tutto il Vallo di Diano. È dunque fondamentale ricominciare a governare nell'interesse del territorio, sospendere ulteriori trasferimenti nella sede del tribunale di sala consiglina e cominciare ad individuare locali idonei per gli uffici che occupano il tribunale stesso in vista di un suo possibile ritorno, sostenendo concretamente e fortemente la difesa del tribunale. Sarebbe imperdonabile, tuona l'avvocato di sala consiglina, se l'affrettata occupazione della sede del tribunale determinasse la definitiva perdita del nostro presidio di giustizia.